Per evitare problematiche... Non viene a controllare? Si nessuno viene a controllare, sta a un caso Non è a controllare E' un problema Non è a controllare Non è a controllare Voi è qui che è a portare via le pese E' il bagaio E' il bagaio Eh dipende perché se poi passa Ma tu quando vai là